pasticcio di verdure e formaggio caprino 190 calorie a porzione per ingredienti quantità e valori nutrizionali visita il nostro sito e adesso cuciniamo versare l'uovo in una ciotola e sbatterlo per qualche istante con una frusta a modi omelette aggiungere la farina all'uovo sbattuto ed incorporare bene stando molto attenti a non lasciar formare grumi ora versare il formaggio caprino fresco in ciotola e pian piano sciogliere il formaggio ed incorporarlo bene nel composto con la frusta per un paio di minuti aggiungere il peperoncino in polvere e il sale mischiare bene il tutto versare la panna di soia nel preparato e mescolare bene il tutto tenere da parte il composto ottenuto in una padella su fuoco medio versare l'olio di oliva aggiungere la cipolla e il peperone giallo mischiare e cuocere per tre minuti sempre a fuoco medio e girando di tanto in tanto a seguire vengono incorporate le melanzane tagliate a cubetti e mescolando si cuoce il tutto per altri tre minuti verificando che il fuoco non sia troppo alto per non bruciare le nostre verdure ora aggiungere le zucchine insieme ai pomodori tagliati a cubetti di nuovo e con cura amalgamare tutte le verdure e cuocere a fuoco medio per altri tre minuti adesso aggiungere le spezie le foglioline di menta fresca il sale l'aglio mischiare bene il tutto con un cucchiaio per distribuire gli aromi nella preparazione porre le verdure cotte in fondo ad una pirofila e versare la crema di formaggio caprino panna di soia e spezie preparata in precedenza spianare con un cucchiaio ed infornare a 180 gradi per 25 30 minuti con 190 calorie a porzione questo pasticcio è delizioso e scenografico buon appetit